Due capolavori riscoperti per due storie avvincenti, un busto in terracotta raffigurante San Lorenzo e attribuito a Donatello e un rilievo sempre in terracotta con la decollazione di San Giovanni Battista attribuito al Verrocchio. Le due opere appartengono alla collezione dei coniugi Silverman e sono state esposte in una mostra temporanea al Museo dell'Opera del Duomo di Firenze. La terracotta del Verrocchio potrebbe essere uno dei modelli preparatori della scena con decollazione del Battista dell'altare in argento del Battistero di Firenze al quale lavorarono artisti associati alla bottega del Verrocchio e in primis Leonardo da Vinci. Tra i collaboratori del Verrocchio all'epoca della realizzazione di questo rilievo c'era niente meno che Leonardo da Vinci e quindi non si può non parlare della possibilità che a lavorare insieme al maestro su questo bozzetto o modello per ciò che poi verrà realizzato da altri in argento non ci sia stato lo stesso Leonardo. A Francesco Cagliotti, studioso ed esperto di Donatello, si deve la riscoperta del busto di San Lorenzo. L'opera ideata e modellata intorno al 1440 per la pieve di Borgo San Lorenzo in Mugello fu acquistata nell'Ottocento dall'antiquario Stefano Bardini e poi venduta ai principi di Linkenstein. Nel 2003 il busto fu messo all'asta e da giudicarselo furono proprio i coniugi Silverman e negli anni successivi rimossa la ridipintura ottocentesca arrivò l'attribuzione al grande Donatello.